Ciao a tutti e bentornati su Azalea Channel Se invece siete nuovi benvenuti In questo caso vi invito ad iscrivervi al canale Lasciare un like al video e scrivermi sotto un commentino Così ci conosciamo Nel video di oggi ragazzi vorrei giocare insieme All'evento aggiunto Con l'ultimo aggiornamento ovvero quello dei premi Del metitore che consiste In una serie di Sfide da portare a compimento Nel corso delle prossime settimane In modo da vincere Dei premi carini E pensavo di farlo Insieme a voi perché magari Mi servirà il vostro aiuto perché è probabile Che rimanga bloccata in certi passaggi E quindi se mi aiutate Sicuramente potrei riuscirci Per farlo ragazzi Ho scelto di giocare con loro La famiglia degli Anderson Ve la ricordate? Loro sono state la famiglia protagonista Della miniserie vita nel range Se vi la siete persa in alto a destra Vi lascio il link alla playlist Così se vi va potete recuperarla Non so se vi ricordate Dove eravamo rimasti con loro Ma in realtà ragazzi Non sono andata molto avanti Con la loro vita Più o meno Sono rimasta al punto In cui ha finita Allora la miniserie Quindi abbiamo la nostra Jodie Che continua a fare il suo lavoro Di allevatrice E agricoltrice Diciamo così Ed ecco qua che c'è già partito I premi del meditore Della settimana 1 Ok Andiamo intanto a vedere Che cosa dobbiamo fare Perché ragazzi Non mi sono spoilerata Molto E quindi È un po' una sorpresa Anche per me Diciamo che è una specie di blind Ed ecco Settimana 1 Pss Ehi tu Nel corso dei secoli La mia memoria Ha iniziato ad annebbiarsi Ho sentito delle voci Su un piatto speciale Chiamato Ambrosia Che potrebbe compromettere Il mio lavoro Completa le missioni Assistente del meditore E basta una chiamata Per aiutarmi a capire Ok Tristo Un attimino Che capiamo Cosa dobbiamo fare Vi stavo dicendo Quindi la nostra Jodie Eccola qua È rimasta tale E quale Come l'avevamo lasciata Abbiamo poi Il figlio Nathan Che era cresciuto da poco E come vedete È ancora Un bambino Poi abbiamo Raul Che si stava già Dedicando di buona mattina A raccogliere Un po' di frutti Nell'orto E ragazzi Questo è il motivo Per cui ho scelto Di giocare Questo evento Con questa famiglia Perché Tra le pochissime cose Che mi sono spoilerata So che Bisogna avere Una certa abilità Di giardinaggio Perché bisogna Piantare Alcuni semi particolari E quindi Visto che con questa famiglia Ce l'ho Quest'abilità E soprattutto Vedete che ho Uno spazio per fare l'orto E anche una sera al coperto Secondo me È un aiuto Importante Che ci può dare Per portare A compimento La sfida E poi ragazzi Qua siamo rimasti Abbiamo Simba Il nostro gattino Che si sta bevendo Tutta questa bontà Dell'acqua del water Ma tutto a posto Wildfire Che guardate Quanto è bello era E bello è rimasto Qui Andromeda Che se vi ricordate Era cresciuta Da poco Da puledrina Era diventata Una bella cavalla Adulta E ragazzi Lei è Un'abbracciante Samaria Che ho assunto Poco dopo la fine Della miniserie Che ci dà Grandissimo aiuto Perché comunque Devo dire Che il ranch Degli Anderson Sta andando benino È rimasto piccolino Ma in grana Perché comunque Ogni giorno Mi dà Sufficienti guadagni Ecco poi vedete Vi ricordate Qui c'è La nostra mucca Claretta Un po' di galli E galline Qui c'è una volpe Che è in realtà Un intruso E poi da qualche parte Dovrebbero esserci Eccole Puffetta La pecorella Che ci dà La lana blu E ho anche Una capretta Eccola qua Nocciolina Insomma Diciamo in questo ranch È bello affollato Ma Torniamo adesso A focalizzarci Su quello Che dobbiamo fare Quindi andiamo a capire Come funziona Qui abbiamo L'iconcina Del tristo E aprendola Ci fa vedere Tutti i premi Che potremmo riscuotere Nel corso dei giorni Portando avanti La missione Vedete che Sono davvero Tantissimi E alcuni Sono bloccati Perché potremmo Riscuoterli Solo dopo Aver fatto Determinate cose Per il momento Concentriamoci Su questi Che penso Siano appunto I primi Che dobbiamo Riscuotere Vedete che Si compongono Di diverse cose Cioè abbiamo Sia oggettini Che possiamo trovare Nella modalità Compra costruisci Sia qualcosa Del cas Come ad esempio Questi orecchini Pozioni E poi Qua Possono capitare Anche dei tratti Premio Come questo Che è un nuovo Tratto dell'otto Quindi Aggiunte Non indispensabili Sicuramente Ma molto carine E qui abbiamo Le due missioni Che dobbiamo portare A termine Questa settimana Ovvero Assistente del mio editore E basta una chiamata Per vedere cosa fare Andiamo qua Che ci dice Le cose relative Alla missione Alla missione Basta una chiamata Dobbiamo Aspettare Il bollettino Dell'associazione Dell'Ambrosia Meno male Che c'è pure La descrizione Accanto Così Riusciamo a capire Bene Che cosa Dobbiamo fare Sta arrivando Aspetta il recapito Della posta Che puoi anche Accelerare Tramite l'app Casa del telefono E penso proprio Che lo andrò a fare Compra il mio titofono Nella categoria elettronica E chiede agli spiriti Dell'Ambrosia Andando su un tavolo Da seduta Spiritica Perfetto Qua Che cosa ci dice Basta una chiamata Premio Punti Evento I premi saranno Conferiti Al compimento Della missione Di scoperta Perfetto Mentre qua Ci da anche L'altra Assistente Del mio editore Dobbiamo chiedere A tre sim Dell'Ambrosia E ordinare Un pacchetto Base Di semi Di fiori Ok Queste cose Mi sembrano Abbastanza semplici Quindi direi Di iniziare Con queste E Andiamo Magari Con Jody Nel centro Città A chiedere Ai sim Se ci danno Qualche notiziole In più Sull'Ambrosia E vedete che Accanto c'è scritto Quanti punti Evento Ci da Ogni singolo Step Quindi eccoci qua Al baretto di quartiere Dove troviamo Già tre sim Belli Pronti A cui chiedere Dell'Ambrosia E direi Che Prima ci andiamo A presentare Perché l'educazione Innanzitutto Ce lo dice pure Qua ragazzi Ricorda solo Che devi Anzitutto Presentarti Quindi lo andiamo A fare E vediamo Se ci può Dire qualcosa In più Intanto Che succede Facile essere amici Di chi lavora Sodo Jody preferisci Si malagri No Grazie Liam ci sta chiamando Liam è il papà Di Jody Però scusaci Papà Ma siamo Al momento Impegnati Dicevo Dove lo troviamo Socializza Ghiadi dell'Ambrosia Cioè in quale categoria Ah eccolo qua Beh direi Abbastanza semplice Vediamo un po' Questo Don Guzema Misologo Che cosa ci dice Mi sembra di ricordare Che l'Ambrosia Sia cibo Da gourmet Perfetto E va bene così Poi Ci presentiamo Anche con Loro due E vediamo Se ci danno Altre news Scusate Interrompervi Ma avrei bisogno Di sapere qualcosa Quindi Chiedi dell'Ambrosia E chiedi Dell'Ambrosia Che poi ragazzi In realtà Noi lo sappiamo Abbastanza bene Come si fa l'Ambrosia Perché se avete seguito Another Life Sapete La nostra Cecilia Tutto Tutto Il lavoro Che ha fatto Per riuscire A prenderla Però dai Facciamo finta Che non lo sappiamo E abbiamo già sbloccato Un premio Grandissimo E infatti Vedete Che ci ha messo Già Un'altra cosettina Fai una ricerca Sull'Ambrosia Con il tuo telefono Un tablet O un computer Ok Allora Andiamoci a mettere Qua seduti tranquilli Che se no Si sta affollando La situation E non ci capisco niente Dopodiché Dobbiamo ordinare Un pacchetto Di fiori E questo però Lo facciamo A casa Allora Quindi facciamo Intanto Una ricerca Vedete Andando qua Nella categoria Casa Ecco qua Che ce lo troviamo Fai una ricerca Sull'Ambrosia Perfetto Poi vediamo Se dobbiamo tornare Al nostro lotto Per ordinare I semi dal computer O c'è qualcosa Che possiamo fare Anche fuori Da casa L'Ambrosia L'Ambrosia È un piatto Di alta cucina Che può riportare In vita Una persona cara È difficile da preparare E richiede tre ingredienti rari Eh sì Lo so Più che bene Se vuoi saperne di più Assicurati di leggere Il bollettino Dell'associazione Dell'Ambrosia Dobbiamo sbloccato Un altro premio E direi che Andiamo poi a riscuotere Tutti insieme Alla fine dell'episodio Ragazzi Ma adesso Dobbiamo per forza Tornare a casa Ed ordinare Un pacchetto Di semi Di fiori base Per cui Tramite il computer Ordiniamo Fiori base Ottimo E adesso Dobbiamo piantare Un giglio E una bocca Di leone Consiglio Piantalo sotto un tetto Per far sì Che sia di stagione E qui la nostra Serra Ci viene sicuramente In aiuto Abbiamo sbloccato Anche un altro Premietto Per cui Direi Che ci andiamo Ad aprire Eccolo qua Il pacchettino Che abbiamo appena Comprato E mi immagino Che Tra i vari semi Spunti fuori Il giglio E la bocca Di leone Begonia Bocca di leone E giglio Perfetto Quindi Andiamo qua E ce li piantiamo Ecco qua Giglio Piantato E adesso Tocca anche Alla bocca di leone Tra l'altro Ragazzi Queste sono Le fioriere Idroponiche Quelle che Praticamente Si Innaffiano Automaticamente Quindi Top Veramente top Adesso Fai una ricerca Su una pianta Per procurarsi L'ingrediente necessario Occorre il pollice Verdi Raggiunge il livello Due di giardinaggio Seleziona una pianta E fa una ricerca Su di essa Giordi ce l'ha Alla grande In teoria Fai una ricerca Ecco qua Cioè Alla grande L'abilità Di giardinaggio Eh si Ce l'ha Chiamata Per cui direi Adesso 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 Mandò A dormire E a Risistemare Un po' Jody E poi Domani mattina Portiamo a termine Anche questa E Welfare che Entra dentro La serra Va bene Non ci fate caso Ragazzi Ed è arrivato Il bollettino Ragazzi Quindi adesso Possiamo Leggerlo Andiamo a prendere La posta Ho dovuto Risistemare meglio La cassetta postale Perché Sennò Era bloccata E non mi Arrivava Però per fortuna Adesso Ce l'abbiamo E quindi Dove dove è Eccolo qua Leggi Vediamo che cosa Esce fuori Bollettino Dell'associazione Dell'ambrosia Ti diamo il benvenuto Alla nostra nuova serie Che ti guiderà Attraverso le fasi Della cottura Dell'ambrosia Se hai piantato Una bocca di Leo Nella fase seguente Consiste nello sviluppare Le abilità di cucina E giardinaggio E Jody Ha anche queste Il modo migliore Per farlo È nutrire Sia te Che il tuo Giardino E mi sembra Giusto Vediamo cos'altro Devi Dobbiamo fare Seguire una ricetta Quando sei almeno A livello 3 Ci siamo Alla grande È anche quasi Ora di pranzo E quindi Ci cuciniamo Qualcosina Ottimo Ho sbloccato Anche questo premio A questo punto Questo intanto Me lo metto in frigo Perché può sempre Farci comodo Dobbiamo Comprare Il mietitofono E per farlo Ma che sta facendo Ma perché L'ha dato a Raul Lo volevo mettere in frigo Vabbè Andiamo avanti Per comprare Il mietitofono Però dobbiamo Prima riscuoterlo E poi lo troviamo Nella categoria Elettronica E quindi È il momento Di riscuotere Un bel po' Di premietti Allora Ci abbiamo Giardinaggio volume 1 E vabbè Niente di particolare Ah ragazzi L'abbiamo riscosti Tutti insieme Con un solo click Ottimo Vediamo un po' Questo era il craniglio Da congelatore Originale Che non so che cosa è Probabilmente Semplicemente Una decorazione Ed eccolo qua Il mietitofono Un impianto audio Soprannaturale Dotato di una linea diretta Con il mietitore in persona Che consente Alle sue conoscenze mortali Di evocarlo A qualsiasi ora Wow Può anche riprodurre La tua musica preferita Se proprio ti appassiona E poi Dei nuovi orecchini La pozione Energica Va bene Il nuovo tratto Del lotto In cerca di spaventi I lotti con questa sfida Riempiono i sim Di un entusiasmo innaturale E attraggono altri sim In cerca di divertimenti Da paura E poi Anche la pozione Della felicità Perfetto E questi sono per il momento Ancora bloccati Perché dobbiamo prima Finire Questa missione qua Quindi Compriamo il mietitofono Ed eccolo ragazzi Il mietitofono Non aveva un posto Dove piazzarlo E quindi L'ho dovuto momentaneamente Mettere qua sul tavolo E adesso dobbiamo Evocare il tristo Ok Spero non Ci dia brutte sorprese Ma Evochiamolo E vediamo Se ci dice Qualcosa O tristo Io ti invoco Incontro socializza Con il tristo mietitore Il tristo sembra Piuttosto amichevole Ah si Seleziona il tristo E poi Una presentazione O un'interazione sociale Oddio Eccolo Subito Si è praticamente Teletrasportato D'accordo Ciao tristo Oh Sta parlando con Simba Oh mi raccomando Non ti portare via Simba Che se no Vedi come te la Dove te la metto Quella falce Comunque Presentazione amichevole Ma poi ragazzi Ci rimane L'ultimo punto Chiedere agli spiriti Dell'Ambrosia Quindi adesso Ci compriamo Il tavolo Della seduta spiritica E proviamo a fare Questa cosa Intanto abbiamo scoperto Che lui è allegro Ok Diciamo che Dall'abbigliamento Non si direbbe Ma se lo dice lui Chi siamo noi Per andargli contro Nel frattempo Si è fatta anche sera Quindi mi sembra Il momento giusto Per andare Al tavolo Delle sedute spiritiche E quindi Chiedi agli spiriti Dell'Ambrosia E vediamo un po' Però ragazzi Sto pensando Che questo tavolo In realtà È stato aggiunto Con lo staff pack Di fenomeni paranormali Quindi mi chiedo Se qualcuno Non ha quello staff pack Come fa a portare Avanti la missione L'hanno per caso Inserito anche Nel gioco base In un aggiornamento Boh Fatemelo sapere Perché sono curiosa Insomma Sarebbe un po' strano Perché in teoria Tutti Dovrebbero poter Portare a termine La missione Indipendentemente Dai DLC Che hanno Perfetto Ce l'abbiamo fatta Con il mio titofono Può evocarmi Ogni volta Che ne hai bisogno Non farlo però Troppo spesso Raggiungere questo regno Può diventare Estenuante Ok E ragazzi E ragazzi Penso proprio Che ce l'abbiamo fatta A portare a termine Le missioni Di questa settimana Attendi e riprova Mentre gli ignomi Cercano di riparare Il guasto Di che guasto Stiamo parlando Non lo so Ma intanto Mi riscuoto Questo bel Premietto Ok E adesso E niente ragazzi Sì sì abbiamo Completato le missioni Della settimana Uno Per poter partire Con le nuove missioni Della settimana Due Bisogna aspettare Almeno tre giorni Quindi intanto Vediamo qua Che cosa ci dice Ambrosia Saresti disponibile Accederne un po' Non mancherà Di aiutarti Nella tua missione Inizia a coltivare Il tuo giardino Pianta una bocca di leone Un melo E un ciliegio Ah probabilmente Perché ci dice Di portarci Diciamo un po' avanti Con le prossime missioni Ma direi ragazzi Che a questo punto Ci fermiamo qua E la prossima settimana Andiamo avanti Con le sfide E vediamo Fino a dove Riusciamo ad arrivare Io conto ovviamente Di farli tutti Comunque per oggi è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Fatemi sapere sotto Nei commenti Se anche voi Avete iniziato questa missione Se siete riusciti A portare a termine Quelle della prima Settimana E noi Ci rivediamo presto Con i prossimi video Ciao